Una delle innovazioni più rivoluzionarie del progetto BMWi è l'abitacolo in carbonio super leggero ed estremamente rigido. Molti non si rendono conto che è il peso ridotto a rendere i veicoli elettrici efficienti e dinamici. Il nostro approccio ha previsto uno sviluppo creato per soddisfare le esigenze dei clienti in termini di mobilità su veicoli elettrici. Per fare ciò abbiamo scelto di realizzare un abitacolo in resina rinforzata con fibra di carbonio. Questo ci permette di dimezzare quasi il peso di una struttura identica in acciaio o di ridurlo di un terzo rispetto a una struttura in alluminio. La fibra di carbonio consente incredibili vantaggi in termini di efficienza, consumi e rendimento dinamico. I tessuti in fibra di carbonio sono più semplici da lavorare e permettono di realizzare nuove forme e geometrie per i nostri veicoli. Rispetto alla lamiera di metallo necessitano di un minor numero di strumenti rendendo così il processo produttivo più efficiente e sostenibile. Il metodo che utilizziamo per produrre i componenti è totalmente nuovo, non li realizziamo in metallo ma in resina rinforzata con fibra di carbonio accoppiati per realizzare la carrozzeria dell'auto. Il CFRP è un materiale composto da fibra di carbonio e resina. La resina è pressata tra le fibre poi si indurisce. Il risultato finale è un componente dell'auto. Gli abitacoli in carbonio non solo sono leggeri ma anche sicuri in caso di incidente e non soggetti a corrosione. Ho guidato queste auto e mi sono piaciute moltissimo. Sono molto gradevoli da guidare, sono leggere e ciò le rende molto dinamiche. Accelerano con facilità, sono reattive nelle curve e sono anche agili ed efficienti. Poiché il peso è ridotto la gamma è ulteriormente ampliabile. Ecco perché abbiamo prestato molta attenzione al peso.